Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A11 ci sono due chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Monte Catini e Pistoia in direzione Firenze. Chiuso per lavori l'allacciamento con la A12 a Pisa provenendo da Firenze. In A1 rallentamenti tra Firenze in Prunita e Firenze Scandicci in direzione Bologna per materiali dispersi. In A12 fare attenzione per una frana tra la barriera di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Illuminazione spenta in galleria sul tratto. Chiuso poi per lavori l'allacciamento con la A11 in direzione Pisa e con la Aurelia provenendo da entrambe le direzioni. Sulla statale una Aurelia chiusa una corsia per lavori tra la stazione di Albinia e Fonte Blanda in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie! Grazie!